Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6 Innanzitutto buona Pasqua a tutti, tempo che si manterrà freddo e instabile sull'Abruzzo Gran parte del centro e del sud anche nel corso di questo lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta I cieli saranno nettamente più sereni ovunque, ancora qualche pioggia residua all'estremo sud su Calabria e Sicilia Il vento sarà ancora protagonista sul lato Adriatico, avremo venti di maestrale sostenuti Che manterranno basse le temperature in Abruzzo Si prospetta quindi una Pasquetta sicuramente più serena con qualche addensamento solo al rosso dei monti Però ancora venti piuttosto presenti, attorno ai 30 km orari, soprattutto lungo le coste Saranno venti di maestrale, temperature piuttosto basse per il periodo massime Non oltre i 12-13 gradi nonostante il sole pieno Minime molto basse da pieno inverno, valori tra meno 1 e 6 gradi Insomma, non avremo le migliori condizioni per trascorrere una Pasquetta all'aperto Con questo è tutto, grazie per l'attenzione Arrivederci al prossimo appuntamento Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Grazie a tutti